Ciao a tutti, per chi non mi conosce mi chiamo Diego, sono ingegnere e mi occupo di paleastronautica. Cerco queste OOP Art, cose tecnologiche nelle scritture e anche su Google Earth. I risultati delle mie ricerche sono collezionate in questa playlist. Queste cose tecnologiche di origine extraterrestre. Ma forse la più importante di queste cose tecnologiche dà il titolo al nostro canale, il Fetonte e il Distruttore. Ricordiamo che questo è un canale a quattro mani, Tatiana mi aiuta principalmente nelle ricerche all'interno dei Veda, delle scritture indiane, essendo insegnante di yoga e quindi studia queste scritture per migliorare la sua formazione professionale e quindi quando trova questi riscontri mi dà una mano. Quindi questi racconti di eventi cosmici che provocano catastrofi, noi vogliamo dare un criterio di storicità, cioè vogliamo dimostrare che sono fenomeni che sono realmente accaduti nel passato. Quindi ci siamo scontrati e noi quindi abbiamo identificato questo arresto del sole di Giosuè come fenomeno realmente esistito e il diluvio di Noè nel 2000 avanti Cristo che collezioniamo i riscontri in questa playlist. Quindi noi in questo video, in questo ultimo video abbiamo dichiarato, abbiamo fatto una dichiarazione abbastanza impegnativa che la Bibbia è un libro di storia ma scritto dagli extraterrestri, quindi nel video in questione spieghiamo perché scritto dagli extraterrestri perché sono talmente tanti i riscontri che ci sembra veramente impossibile che tutti questi dati, comprese le date, quindi con la collocazione nel tempo, abbiano viaggiato per migliaia di anni fino a noi così per puro caso. Ci deve essere stata una mano che ha organizzato, quindi curiosamente pur facendo una ricerca sconnessa dal credo, quindi da Dio, siamo arrivati alla stessa conclusione, la conclusione che credono per esempio i molti credenti, cioè che ci sia stata una mano che ha guidato, ha fatto in modo che queste cose arrivassero a noi più o meno integre. Vediamo che in realtà è più o meno integre perché poi ci sono una montagna di falsificazioni, quindi lungi da noi affermare che quello che c'è scritto nella Bibbia è linea e parola per pallola frutto della... Infatti noi stiamo collaborando a reintegrare quale poteva essere il testo originale, quindi questo video è uno dei tasselli che abbiamo aggiunto alla Bibbia conosciuta per ricostruire i fatti che si sono verificati e in particolare durante l'Esodo, quindi questo video tratterà gli eventi dell'Esodo. Quindi per documentare questa storicità della Bibbia e soprattutto storicità delle catastrofi cosmiche, ci siamo scontrati col paradigma che enuncia il professor Di Freddi, che le apocalisse sono solo un genere letterario, quindi questi racconti che parlano di catastrofi, secondo lui sono un qualcosa che è stato inventato così, forse per spaventare la gente. Quindi abbiamo realizzato una serie di video per dimostrare che in realtà ci sono dei riscontri extra, dei testi, dei resoconti incrociati e tutta una serie di cose che abbiamo raccolto in questi tre video che adesso vi sfoglio, quindi chi è interessato a questi approfondimenti può cercare questi video. Quindi una delle principali critiche che ci viene avanzata è che noi utilizziamo questa Bibbia di Colbrin, quindi per gli storici mainstream la Bibbia di Colbrin è spazzatura. Quindi lo scopo di questo video è dimostrare che la Bibbia di Colbrin non è spazzatura e che le analisi degli storici cosiddetti mainstream della comunità scientifica sono superficiali, a meno che non salta fuori qualche testo che noi non conosciamo e quindi ovviamente rettificheremo, quindi se qualcuno conosce analisi simili a questo che abbiamo fatto di noi, tanto di cappello, nulla da dire. Quindi questa Bibbia di Colbrin vediamo come noi abbiamo riscontrato che ha un contenuto utile per ricostruire degli eventi, quindi ha un criterio di storicità, anche se apparentemente è apparsa in modo rocambolesco. Un'associazione inglese, i Caldrian, l'hanno pubblicata, pare che ci siano queste foglie di bronzo, ma è scritta in inglese, quindi è stata tradotta presumibilmente dai monaci del monastero inglese di Glastonbury ed è stata salvata all'incendio di questa monastero, almeno è quanto raccontano coloro che la custodivano, quindi erano tanti i tentativi di distruggerla che alla fine hanno pensato che doveva rimanere segreto fino a quando nel 1992 l'hanno pubblicata. È una collezione di testi di varia provenienza, ma una parte si ritiene che proviene dalla biblioteca di Alessandria, quindi si è stata salvata da una collezione di testi antichi che erano conservati nella biblioteca di Alessandria. Quindi noi un primo riscontro storico, quindi un qualcosa all'esterno che parlasse della stessa cosa, quindi noi facciamo una premessa, non è che abbiamo studiato tutta la Bibbia di Colbrin, abbiamo identificato i racconti che parlano di questo asteroide distruttore, li abbiamo identificati, li abbiamo tradotti dall'inglese con i nostri mezzi più o meno precisi, ma in linea di massima ormai anche utilizzando Google Traduttore si ottengono delle buone traduzioni dell'inglese. E abbiamo trovato questo primo riscontro che facciamo in questo video, facciamo un esame, una sinopsi parallela di questi racconti sul discruttore e di quelli dei dialoghi di Timeo e Crizia, perché pochi sanno che i dialoghi di Timeo e Crizia non parlano solo di Atlantide, ma parlano anche di luvi e di catastrofi cosmiche che attribuiscono fenomeni simili a quelli descritti nel mito di Fetonte. Quindi il mito di Fetonte non sarebbe un mito, questo racconta il sacerdote egizio Assolone, ma in realtà va visto come un fenomeno realmente esistito e accaduto. E noi abbiamo preso per buona questa testimonianza violando un altro dogma degli storici mainstream, che i dialoghi di Timeo e Crizia sono una fantasia di Platone, quindi nulla da utilizzare come documento storico. Ecco che abbiamo fatto un secondo peccato mortale, secondo questi storici, quindi già con due peccati mortali già siamo andati all'inferno, ma noi diciamo in realtà che due peccati mortali che si rafforzano vicendevolmente invece fanno andare in paradiso. Quindi vedete, la vediamo totalmente all'opposto. Loro dicono che due peccati mortali siamo proprio inguaribili, quindi siamo dei contastorie inguaribili, e noi invece diciamo che due testi da condannare come affidabilità, che si danno forza, cominciano a farli diventare testi seri. E quindi per rafforzare ancora di più questo paradigma che i dialoghi di Timeo e Crizia sono un testo che ha valore storico, abbiamo cercato di rompere questo paradigma che Atlantide non è stata mai ritrovata, che quindi questi testi di dialoghi di Timeo e Crizia sono inaffidabili, e questo è il motivo principale che viene addotto. In questa playlist noi, agganciandoci a una ricerca mondiale, abbiamo sviluppato con osservazioni per mesi e mesi su Google Earth di alcune formazioni, sto utilizzando le funzioni tridimensionali, e siamo arrivati alla conclusione che questa ipotesi che sta appassionando molti nel mondo ha delle fondamenta e delle forti verifiche sul piano geologico, quindi chi vuole approfondire può vedere questa playlist. E quindi tra questi racconti del distruttore abbiamo fatto una scoperta, abbiamo trovato uno che, secondo noi, senza ombra di dubbio, racconta quanto si è verificato durante l'Esodo degli ebrei, quindi questa sarebbe veramente una conferma importante, perché sarebbe un apocrifo dell'Esodo, un testo che attualmente non esiste, perché, almeno che io sappia, non si conosce un testo che racconta le stesse cose dell'Esodo extrabiblico, quindi sarebbe una conferma letteraria di dimensioni planetarie, solo che questa scoperta non è che farà molto piacere alla Chiesa, perché getta luce su questo episodio che la Chiesa ritiene miracolosa e che invece risulta provocato da un fenomeno cosmico. Invitiamo a vedere questo video, perché è veramente importante. Quindi quali sono i riscontri storici? Che questa versione dell'Esodo sia quella giusta e non quella della Bibbia. Per agganciare questo resoconto a altri testi, in particolare questo di cui parliamo oggi, il papiro di Ibuer, siamo partiti da un tratto d'unione che lega questi racconti. Il fatto che durante questa catastrofe cosmica l'asse della Terra subisce forti inclinazioni e su questo abbiamo trovato conferma in vari testi che raccogliamo in questo video. Quindi in particolare, arriviamo al papiro di Ibuer, c'è il paragrafo 2 che recita appunto, analogamente a quanto recita la Bibbia di Colbrin, e in effetti la Terra gira intorno come fa un vasaio che ruota il vaso, quindi come la ruota di un vasaio. Ecco, qui abbiamo messo l'inglese. Vedete voi se questa traduzione è appropriata. Quindi a partire da questa descrizione che non è facile attribuire a uno stato di caos che regnava nell'Egitto oppure invasioni, come dicono molti, ma comunque anche gli studiosi maestim, non tutti ovviamente, c'è una fazione che trova delle analogie tra il libro dell'Esodo e il papiro di Ibuer. Quindi questo papiro di Ibuer viene citato come conferma extrabiblica della storicità. Quindi in realtà qualcuno si è cimentato e quindi vedete in questo testo quali sono i vari indizi. Comunque il principale è questo fatto del sangue. Quindi leggiamo attentamente questo passo perché in effetti il fiume è sangue ma gli uomini bevono da esso. Gli uomini si riducono da esseri umani e la sete che dopo dighe qui c'è qualcosina che forse non è perfetta il Google traduttore che dopo dighe, cancelle, colonne, le pareti sono distrutte mentre la sala del palazzo ha resistito. In effetti la nave dei meridionali sono distrutte, le città sono distrutte e l'Alto Egitto è diventato un deserto veramente vuoto. i coccodrilli sono satolli con il pesce che hanno preso. Quindi ecco qua questo a parte il fiume che diventa sangue c'è questo secondo indizio il dissecamento del Nilo che troviamo nel mito di Fetonte. Quindi vediamo un altro racconto che dà forza a questo mito di Fetonte che noi riteniamo un punto centrale perché il mito di Fetonte descrive una traiettoria di questo corpo celeste che a partire dall'India si protrae attraversa tutto il Mediterraneo e scompare verso il nord Europa. Quindi vediamo qui un passo della Bibbia che addirittura fa pensare che questa presenza quindi conferma quello che sembrerebbe che questo distruttore sia stato cancellato dalla Bibbia. Ti getterò nel deserto te e tutti i pesci dei tuoi fiumi. Questa è una minaccia che Yahweh fa al farone d'Egitto in Ezechiele quindi questo sarebbe una conferma perché questo papiro di Ipuwer sembrerebbe essere un resoconto una parte del resoconto del Colbrin. Vediamo quali sono le parti e quindi questo approfondimento sul prosciugamento del Nilo lo facciamo in questo video. Qui vediamo un'altra descrizione ecco il fuoco si è spento in alto il suo bruciore va avanti contro i nemici della terra ecco sono successe delle cose che non accadevano da molto tempo quindi questo è importante questo non accadevano da molto tempo attenzione questa non è la Bibbia di Colbrin questo è il papiro di Ipuwer quindi e dà un indizio una conferma di questa ciclicità del distruttore quindi un qualcosa che di tanto in tanto si presenta e questo fuoco che si è spento in alto certo non è facile classificare come invasione di popoli quindi hanno tirato fuori che sia il Santorini perché il Santorini è come come si dice il cacio sui maccherroni lo spalbano dappertutto questa è diventata la moda quindi la moda degli storici è quando c'è una catastrofe è il Santorini migliaia di anni prima facciamo un esempio Platone racconta di una catastrofe che distrusse Dante 12.000 anni fa e dice ma guarda che Santorini è nel 1600 a.C. non importa Platone ha inventato tutto e la data è quella del Santorini quindi si si stabilisce che queste differenze di date sono da attribuire alla fantasia che sono rapporti di fantasia quindi Platone ha scritto date così tanto per scrivere qualcosa tanto per divertirsi e quindi noi abbiamo che questo testo secondo le nostre datazioni e secondo anche chi data questo papiro e in molti che datano l'esodo e si colloca intorno al 1200 a.C. quindi il Santorini e nel 1600 a.C. visto sono 400 anni di differenza quindi vediamo un altro passo che si capisce leggendo tutti i vari testi della Bibbia di Corbyn ecco il serpente della terra ecco questo è il serpente quindi questo asteroide che descrive anche Plinio il giovane come si presenta in aria come fosse un serpente quindi un qualcosa che oscilla saltella fa quindi visto da lontano una specie di cometa ma non è una cometa una cosa molto strana ecco il segreto della terra i cui limiti erano sconosciuti viene divulgato perché questo dopo un poco siccome questo è un evento che è separato da quattro cinquecento anni e scompare dalla storia quindi scompariva almeno perché una volta non era come ora e quindi diventava un racconto mitico leggendario però poi passavano gli anni e a un certo punto si ripresentava questo distruttore e quindi tutti dicono ah ecco allora c'era veramente non è un mito non è cioè gli stessi discorsi che stiamo facendo adesso li facevano nell'antichità ogni volta che questo fenomeno si riprese si si dimenticava quindi chiamavano la fine del tempo che deve passare affinché arrivi di nuovo il distruttore questa frase si è contratta nella fine dei tempi che viene usata nell'apocalisse ecco l'Egitto è toccato da una collata di acqua ecco lui che versava l'acqua a terra qui ci parla di acqua ecco c'è anche un diluvio connesso quindi si pensa che con l'osservazione il serpente è estratto dal suo buco quindi questo serpente questo questo strano oggetto cosmico esce fuori dal suo nascondiglio i segreti dell'alto e basso Egitto vi vengono divulgati quindi ecco questo è secondo noi un delle importanti analogie che confermono la Bibbia di Colbrin come un testo fondamentale per chiarire queste vicende che si svolsero intorno al 1200 avanti Cristo una emigrazione di massa di tutti i popoli del Mediterraneo chiamati popoli del mare tutto quello che vedete lo potete approfondire nei video che appaiono e aggiunge un tassello per chiarire un complesso di eventi che hanno portato gli storici a definire questo periodo del 1200 avanti Cristo con l'asso dell'età del bronzo quindi altro che spazzatura come vorrebbero dire tanti un documento prezioso che è stato scartato dagli storici cosiddetti mainstream quindi ricordiamo se vi è piaciuto il video di mettere un like perché se non mettete un like noi avremo sempre pochissime visualizzazioni e quindi non si creerà mai un dibattito scientifico che potrà appurare se quelle queste cose che diciamo noi sono delle fesserie e quindi oppure sono delle cose che hanno una validità storica quindi se non ci saranno questi like continuerete a fidarvi di noi vi ringraziamo della fiducia ma non avrete mai una verifica perché noi non vogliamo rimanere chiusi chiusi nell'orticello e raccontarvi sempre la solita rava e la solita fava senza riscontro ma noi cerchiamo sfidiamo tutti quelli che ci capano a tiro a mettere in discussione le nostre teorie solo che su youtube succede un fenomeno strano quando tu proponi a qualcuno di avere un dibattito dicono tu quante visualizzazioni hai ecco se hai poche visualizzazioni sei un idiota ecco questo è il concetto che regna su youtube quindi noi continueremo ad essere dei pubblici idioti perché non abbiamo pochi like e poche visualizzazioni ma a noi questo interessa perché tanto noi siamo abbastanza sicuri io sono abbastanza sicuro di queste cose non ci metterei la faccia se non avessi valutato ben bene questi contenuti quindi se tutto il mondo è contento così siamo contenti anche noi se ci fosse qualcuno che volesse approfondire guardi il sito fetonte.it dove ci sono tutti i testi come questo che abbiamo visualizzato raccolti per un'analisi comparata ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti